Niente dropshipping né e-commerce, ecco dei metodi pensati apposta per studenti per poter guadagnare che potete mettere in pratica dopo aver visto questo video. Non fraintendetemi, non ho nulla in particolare contro chi fa corsi o fa dei trading, ma lo scopo di questo video è farvi vedere dei metodi per studenti di guadagno facili che potete mettere in pratica subito dopo aver visto questo video, entro un giorno, entro al massimo una settimana. Ripetizioni, il mio preferito. Lavori part-time o serali, ventità di appunti e study coaching, tutto quello che ruota attorno a queste cose e infine YouTube e passive income. Inoltre verso la fine facciamo tutti i calcoli e le stime di quanto si può realisticamente guadagnare facendo uno, due o più di questi metodi. Partiamo dalle ripetizioni che sono il mio metodo preferito in assoluto e è il migliore per chi deve iniziare e non ha mai fatto nulla che l'ha fatto guadagnare. Per come è fatto il mercato delle ripetizioni e per come è fatta la scuola sostanzialmente sono più adatte per chi tratta l'area di magari matematica, fisica, comunque area STEM. Non scoraggiatevi voi che siete appassionati di italiano, storia, filosofia perché anche lì comunque c'è un mercato delle ripetizioni. Semplicemente è più grande per materie come matematica e fisica che sono materie tecniche dove l'esercizio si presta di più proprio alla ripetizione. Potete dare ripetizioni sia che siete studenti delle superiori magari siete al quarto o al quinto anno date le ripetizioni a studenti delle medie o del bienio ma anche e soprattutto se siete studenti universitari in cui avete come bonus tutti gli studenti delle superiori e tutti gli studenti delle medie. Ormai il mercato delle ripetizioni sta arrivando a uno standard di 10-15 euro all'ora se siete studenti dell'università. Anzi se siete dell'università mi verrebbe da dire anche 15-20-25 euro all'ora anche in certe zone magari come Milano dove la competizione è più alta e i prezzi salgono. Unico contro se mi posso permettere delle ripetizioni è che è scalabile fino a un certo punto. Con le ripetizioni se superate la soglia dei 5.000 euro all'anno non potete più cadere come prestazione occasionale non tassata ma dovete aprire partita IVA e pagare le tasse. Se però siete uno studente della terza, quarta, quinta e superiore o primo anno di università che vuole arrotondare con qualche decina se non centinaia di euro al mese potete farlo senza paura di infrangere la legge. Se infatti le fate occasionalmente e non superate la soglia di 5.000 euro di guadagno non serve neanche aprire partita IVA né tantomeno pagare le tasse. Altra figata delle ripetizioni è che potete farle da remoto e questo davvero vi apre un mucchio di possibilità. Ora vediamo come partire e come iniziare per chi non ha mai dato una ripetizione in vita sua. La prima cosa che mi sento di dirvi di fare è quella di partire con il metodo classico del passaparola. Andate nella vostra vecchia scuola superiore o nelle scuole vicino alla vostra zona dove abitate, andate nelle biblioteche dei vostri paesi, vi stampate il vostro foglio con Ciao, do ripetizioni in matematica a studenti di quarta e quinta superiore. Questo è il mio numero, chiamami, questa è la mia email, contattami qua se sei interessato. Le appendete nelle bacheche e vi sorprenderete che per magia qualcuno vi contatterà. Anche il passaparola, magari se conoscete gente, non so, i vostri genitori conoscono qualcuno che ha dei figli, magari più piccoli di voi che ha bisogno di aiuto, voi potete fare il ma digli che io do ripetizioni, se magari ha bisogno mi può chiamare e così vi iniziate a creare il vostro primo giro di clienti. Un sacco di gente è disposta a venire da voi anche se non avete mai dato ripetizioni perché semplicemente ne ha bisogno ed è difficile a volte trovare un tutor. Magari agli inizi vi dovete far pagare un po' di meno, non partite subito con 20 euro all'ora per uno studente di prima superiore, magari lì partite con 10 euro all'ora, però poi potete scalare facilmente a 10, poi 15, poi 20 euro all'ora, magari per gli studenti un po' più grandi di quarto e quinto e superiore. Altri metodi secondo me stravalidi per crearsi un giro di ripetizioni sono i siti online dedicati, tipo mi viene in mente MyBuddy, che trovate il link in descrizione, in cui voi vi registrate come tutor e il sito crea l'infrastruttura che fa in modo di farvi trovare clienti. Voi trovate clienti perché la gente, i ragazzi che hanno bisogno di ripetizioni o i genitori vanno sul sito, dicono mi serve un tutor di matematica e vi trovano, vi contattano e boom è fatta. Altri metodi poi sono tipo, non so, vi fate una pagina Instagram, delle vostre ripetizioni, ve la sponsorizzate un po' o fate qualche post per pubblicizzarvi su Facebook, sui social, davvero il limite è la vostra immaginazione. Forse è meglio che metto qualche numero per darvi un'idea del potenziale delle ripetizioni, perché secondo me non è chiaro. Immaginate che voi vi facciate pagare, non so, 15 euro all'ora, un prezzo secondo me validissimo, soprattutto se siete al magari primo o secondo anno di università e studiate qualcosa tipo matematica, fisica, chimica o magari ingegneria, tutte le ingegnerie vanno benissimo. Vi fate pagare 15 euro all'ora, lavorate tipo, non so, 8 ore alla settimana, è pochissimo, cioè è davvero facile trovare 8 ore di lavoro per le ripetizioni, sono 120 euro alla settimana che fanno circa 500 euro al mese. E se lavorate magari 5, 6, 7 mesi all'anno al massimo, arrivate sui 3.000, 3.500 euro e non dovete neanche pagare le tasse. A quell'età, da studenti, primo o secondo anno di università, ma anche terzo anno di università, 500 euro al mese fanno la differenza. Parliamo di lavori serali e lavori part-time. Sono la fonte di guadagno più stabile in assoluto. Non sono quelli che vi fanno fare più soldi, non sono i più comodi, ma sono i più stabili. Proprio per la loro natura. Non dovete preoccuparvi delle tasse, perché se lavorate non in nero ma a contratto, le tasse sono già pagate dall'azienda, quindi zero pensieri al fisco. Non dovete preoccuparvi di trovare i clienti, perché siete dipendenti, il lavorolo dall'azienda, lo stipendio è fisso. A questo prezzo, con queste comodità, qualcosa deve tornare indietro, ovvero che non è così comodo da incastrare nella routine. Infatti molto spesso i lavori salari e i lavori part-time hanno degli orari fissi che voi siete tenuti a rispettare, altrimenti se no venite licenziati. Questo a volte può essere un po' scomodo. Io per mia esperienza ho provato sia le ripetizioni e i lavori serali, e vi posso dire queste cose. La ripetizione è scalabile ed è comoda, è però qualcosa che vi richiede un grande impegno cognitivo. Il lavoro serale, se riesco a parlare, vi richiede meno impegno cognitivo, cioè non è che dovete andare lì come delle amebe, comunque dovete usare il cervello mentre lavorate, però vi richiede un minore impegno cognitivo. Hanno il grande vantaggio che l'introito è fisso, sapete quanto guadagnate, è sicuro, non dovete trovare clienti, non dovete pensare alle tasse, niente di tutto questo. Magari non vi piace delle ripetizioni, o nella vostra zona il mercato delle ripetizioni non è così grande, non avete sbatti di usare i siti delle ripetizioni, o magari la vostra materia non se la caga nessuno, riferimenti puramente casuali, no scherzo. Il lavoro serale è il go-to, è la strada più logica secondo me. C'è un settore che la domina, lo sapete già, il settore della ristorazione. Non pensate di andare a fare come primo lavoro il cameriere e prendere 3.000 euro al mese. Non si fanno sti soldoni, però secondo me si fanno degli ottimi soldi, pensati da studente, magari di quinto superiore, di prima università. Imparate un mestiere, imparate tante cose che le ripetizioni non vi danno. Cioè imparate il rapporto con i colleghi, imparate a parlare con chi sta sopra di voi, a fare un colloquio di lavoro, a fare un mestiere nuovo. Oltre ai soldi hanno tanti altri vantaggi, cioè non vedetela solo come eh ma l'orario è fisso, prendo poco. Cercate di vedere l'opportunità anche dove magari l'opportunità non sembra esserci. Ad esempio io in pizzeria una delle cose più utili che ho imparato è stata imparare a gestire le situazioni di stress dove hai tante cose da fare in contemporanea con tante persone che ti dicono le cose. Io adesso che voglio fare medicina, penso che questa skills possa tornarmi utile in un momento in cui magari andrò a fare un tirocino al pronto soccorso o che ne so. Una roba dove devi essere attento a più cose contemporaneamente. Se non vi piacciono le ripetizioni e non vi piacciono i metodi che vedremo dopo, questo è il vostro go-to. Study coaching e vendita di appunti. Allora, questi sono due metodi, o un metodo se vogliamo metterlo sullo stesso piano, in cui io non ho una grandissima esperienza, nel senso che non mi sono mai fatto pagare per fare study coaching, cioè fare il coach per lo studio, o non mi sono mai fatto pagare per vendere appunti. Però, soprattutto lo study coaching è una roba che mi ispira un sacco, tipo in America e in Inghilterra va fortissimo, qua in Italia ancora meno, forse un po' per della cattiva pubblicità in passato, con tipo, non so se qualcuno di voi conosce il metodo universitario, quei libri lì un po' fake, però sta riprendendo in piedi, ci sono un po' di canali, qualcuno in Italia è grosso che ne parla, ad esempio Alessandro De Concini, che secondo me fa un bel lavoro sullo study coaching, e sta cercando un po' di rilanciare tutto il business dello study coaching in maniera seria. Unica pecca, cioè non è una pecca in realtà, per fortuna serve molta credibilità per fare il coach di studio. Che vuol dire? O avere esperienza con tanti clienti soddisfatti che sono disposti a darvi una recensione, che sia sul vostro sito, sul vostro canale YouTube, un messaggio, qualcosa che voi, che attesta che il vostro metodo funziona e fa passare gli esami alla gente, fa prendere i bei voti alla gente, oppure voi in primis dovete avere dei bei voti, perché immaginatevi uno che deve fare ripetizioni in matematica. Io se ho bisogno di ripetizioni in matematica non è che vado a prendere da uno che ha i voti più bassi dei miei, vado a prendere da uno più bravo o molto più bravo. C'è un po' questo scoglio iniziale della credibilità, però se avete una buona media o siete disposti a farlo gratuitamente a un po' di persone disperate e poi queste migliorano, il vostro metodo funziona e sono disposti a farvi pubblicità, è un metodo perfetto. Sto facendo un esperimento in questi mesi in cui sto facendo della study coach per vedere se funziona, ma sono fiducioso. E ora parliamo di YouTube e metodi di passive income. Breve finestra su che cos'è il passive income. Passive income vuol dire guadagnare in maniera passiva, cioè voi non state lavorando e c'è qualche cosa che avete creato in precedenza che in quel momento vi fa guadagnare qualcosa. Spoiler! Metodi di passive income puri, cioè che non lavorate e guadagnate, non esistono, cioè è tipo impossibile. Voi in qualsiasi metodo che vi viene venduto come passive income puro ci deve essere sempre del tempo investito prima o per imparare come farlo funzionare o per costruirlo inizialmente che è del tempo, dell'energia, delle robe che voi mettete per farlo funzionare. Quindi passivo così non esiste niente. Detto questo, YouTube tra questi è il mio preferito. Mi piace, mi è sempre piaciuto un sacco. Ho sempre guardato video su YouTube dalle medie, da ormai, ciao, più di dieci anni. Ha buone opportunità di guadagno con un minimo di costanza. È vero, non si fanno soldi a palate all'inizio, soprattutto con canali magari non enormi. Ho fatto un video dove vi faccio vedere quanto guadagno io, ve lo lascio qui in descrizione. Il vantaggio di fare tipo YouTube o fare una pagina Instagram e tramite queste cose monetizzare vi può davvero aprire delle porte di guadagni esponenziali. Ora non sto scherzando quando vi dico che c'è gente che è diventata milionaria, multimilionaria facendo queste cose. Non è semplice perché bisogna investire del tempo nel ricercare le idee per i video, come editarli, come farli bene, capire cosa la gente vuole guardare e unire quello che a voi piace fare, quello di cui a voi piace parlare con quello che la gente vuole e come lo vuole vedere. Ma se tutto questo processo di creazione del contenuto dall'idea alla realizzazione vi piace, vi consiglio di aprire un canale YouTube. Magari se volete posso farvi anche una specie di guida su come partire con il vostro viaggio su YouTube. Un vantaggio grande che si collega ai metodi che abbiamo visto prima, quello di study coaching, quello di vendita di appunti, quello delle ripetizioni, è che se voi vi create la vostra pagina delle ripetizioni, Instagram, TikTok, quello che sia, vi create la vostra pagina di study coaching o vendita di appunti, voi potete usare il passive income di YouTube, ad esempio, come strumento di supporto per dirigere il traffico lì di persone che vi seguono e aumentare la visibilità della vostra pagina di ripetizioni, di vendita di appunti, aumentando così il guadagno perché c'è più gente che vi vede. acquistate più fiducia da parte delle persone e uno dice ah, caspita, lui fa i video, fa anche le ripetizioni, cavoli dai, prendo le ripetizioni di lui, vado a fare le ripetizioni di lui. È un bel modo, una bella piattaforma per mettersi in mostra gratuitamente o comunque con un investimento minimo. Tenete presente che io ho un canale da 15 mila iscritti e faccio video con il telefono, cioè adesso un microfono che si attacca al telefono e una ring light e basta. L'unica cosa che vi deve piacere è che vi dovete un po' mettere in gioco perché all'inizio, confesso, non è semplicissimo parlare a telecamera. C'è un po' quell'imbarazzo iniziale però una volta che capite che alla gente non gliene frega letteralmente niente e superate questa barriera vi si apre un mondo di opportunità. Ma fermini, non scappate perché adesso vediamo quanto si guadagna realisticamente al mese. Vi faccio magari qualche esempio anche di quanto ho guadagnato io i vari mesi con lavoro salare o ripetizioni o YouTube o tutto insieme e come si possono combinare magari una, due o addirittura tre fonti di questo guadagno passivo insieme allo studio per poter far fruttare un po' le nostre casse. Eccoci arrivati alla parte succulenta. Quanto si può guadagnare realisticamente al mese se facciamo uno o magari due di questi metodi perché tenete presente che questi il bello di questi metodi di guadagno di questi lavoretti è che si incastrano facilmente tra loro. Ad esempio supponiamo che facciate le ripetizioni otto ore alla settimana che sono cioè otto ore alla settimana è pochissimo quindici euro all'ora fanno quattrocentottanta cinquecento euro al mese. Ok? Non superiamo la soglia dei cinquemila euro all'anno con le ripetizioni quindi lo facciamo non so cinque, sei, sette mesi arriviamo a tre mila e cinquecento euro in totale. Se le uniamo al lavoro serale che se a contratto è già tassato dove non dovete dichiararlo ragazzi arriviamo facilmente a novecento euro al mese. Ammazza ma in quinto superiore o primo all'autodiversità novecento euro al mese cioè vi prendete la casa in affitto è tanta roba. Va bene anche lavoro serale e youtube siamo sempre tra i quattro e i seicento euro al mese come vedete e non si buttano via queste tac credetemi tenete presente che poi questo qua youtube o passive income oppure ripetizioni li potete fare assieme e uno supporta l'altro uno genera traffico genera follower sulle vostre pagine di ripetizioni che aumentano i vostri clienti quindi io mi sento di dire che è realistico che per uno studente di diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventitre anni si possono guadagnare mille euro al mese e studiare allo stesso tempo ci saranno dei sacrifici da fare non si può uscire tutte le sere con queste cose il guadagno di avere mille euro al mese a quest'età è davvero tantissimo è un po' un trade off dipende soprattutto da cosa studiate da quante ore vi richiede a voi dal metodo che usate e da quanto guadagnate con i singoli lavori però non precludetevi l'opportunità in partenza io vi consiglio di iniziare subito a lavorare secondo me è una cosa che ci sta se avete poco tempo non vi dico di farvi tutti ne fate uno provate con le ripetizioni provate con un lavoro serale e vedete come va da questa nuova inquadratura per oggi è tutto e noi ci vediamo con il prossimo video ciao